Andiamo in diretta da Montecitore dove c'è Valentina Antonello che vedo con un ospite, Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle. Sì, esattamente così. Intanto vi diciamo subito che è tuttora in corso l'Assemblea dei Deputati, ufficialmente seguito della discussione di ieri sulle strategie comunicative. Di fatto sul tavolo molto probabilmente ci sarà anche il caso di una nuova espulsione, quella di Tommaso Ocurro che avrebbe firmato con Forza Italia un emendamento per l'istituzione di un'area marina in Sicilia. Innanzitutto verrà espulso Curro? L'Assemblea è ancora in corso e quindi non posso darle questa risposta. Quello che sappiamo è che Curro ha capito l'errore che ha fatto, ovvero sia che ha preso una scelta, ovvero sia di inserire un emendamento alla stabilità nel quale dava un vantaggio a qualcosa di localistico, ovvero sia al territorio da cui proveniva, che si allontana enormemente da quello che è la nostra filosofia politica. Ne stiamo discutendo. Una volta che sarà terminata l'Assemblea valuteremo. Ricordo però che noi non espelliamo nessuno ma sono i cittadini della rete a dispellere eventualmente dei parlamentari eletti. Certo che il dissenso sta crescendo. Oggi il rastellato dice che non voterà il suo movimento alle europee e quattro senatori si dissociano dalla comunicazione del gruppo. Io non penso. Io vedo un gruppo molto compatto. Le ricordo che siamo in 160 tra Camera e Senato, che siamo sotto l'occhio del ciclone come probabilmente mai prima nessun gruppo parlamentare e cinque nostri membri su 160, è normale che abbiano delle opinioni discordanti. Ciò significa che gli altri 155 in realtà stanno portando avanti delle battaglie giuste per i cittadini. Senta, non c'è una riflessione però da fare sugli insulti, i post, le occupazioni delle ultime giornate? Allora, sicuramente alcuni di noi hanno sbagliato. Ci sono stati dei toni, delle parole completamente sbagliate da stigmatizzare. Le persone che hanno commesso questo errore hanno chiesto scusa, se ne è discusso anche in Assemblea e vedremo quali saranno le scelte che prenderemo. Vi ricordiamo che però il merito del discorso non è tanto l'errore o la parolaccia o la parola sbagliata, ma il fatto che noi stiamo difendendo un qualcosa che nessuno ha difeso, ovvero sia la prerogativa del Parlamento. La possibilità di poter parlare e di avere una voce discordante rispetto a quello che è la tirannia della maggioranza. Voterete no stasera sul decreto svuota carceri, la fiducia posta dal governo? Ma certamente, inaccettabile. Con questo decreto sono già usciti cinque mafiosi e permette a coloro che hanno commesso reati gravi di mafia, di pedofilia, stupratori, di uscire e di avere dall'oggi al domani un anno di sconto di pena. e 75 giorni all'anno di sconto di pena. Vedete voi se questo è un qualche cosa di accettabile. Questa dunque è la posizione, se non avete...